Buona giornata a tutti ragazzi, allora torna la Money Cup al posto della Supercoppa Italiana Come sapete benissimo io l'ho soprannominata così perché alla fine è una coppa ormai che riguarda solo soldi Almeno che appunto non si faccia, non si disputi in Italia, allora torna ad essere Supercoppa Italiana Allora c'è chi dice che si fa questa Supercoppa in Arabia, in Cina, in Qatar per esportare il prodotto italiano all'estero E quindi per far sì che gli arabi investino appunto sul calcio italiano, sui diritti televisivi italiani Per me è una grandissima cazzata perché ci sono già le tournée per quello Gli arabi hanno già parecchie televisioni che si occupano dei diritti televisivi italiani E appunto a parte quello secondo me comunque non ha senso il tuo discorso perché è una coppa, è una partita Io ripeto, la Supercoppa Italiana, la Money Cup non la considero tanto da sempre praticamente Perché comunque non è una coppa che tu raggiungi dopo un cammino lungo come può essere la Coppa Italia, la Champions League o lo Scudetto È una coppa messa lì ma tutte le Supercoppe secondo me sono inutili Poi vengono considerate coppe ufficiali però alla fine per me non valgono tanto di più rispetto a un trofeo Berlusconi o un trofeo team Comunque vabbè, a parte questo poi il periodo a gennaio, a gennaio in Arabia Periodo nel quale siamo in pieno della stagione, proprio nel mezzo della stagione Quindi anche lì rischi di condizionare anche le partite di gennaio Ovviamente le partite che verranno spostate di Juventus e Milan Vabbè, io non mai sapete come la penso su questa cosa qui Sul rispetto per i tifosi italiani che non c'è più Perché comunque i tifosi di Juventus e Milan sono in Italia Per la maggior parte o quantomeno non sono sicuramente in Arabia a sua vita Vabbè E a parte questo Ci tengo a sottolineare che l'Inter dal 2006 al 2010 ha disputato 4 Supercoppe su 5 al Meazza La Juventus 6 Supercoppe su 6 Ok Non disputate allo Stadion C'è un regolamento, ok, dato che a voi piacciono i regolamenti C'è un regolamento che dice che la Supercoppa italiana dovrebbe essere giocata in casa della squadra vincente dello scudetto Quindi la squadra campione d'Italia Questa cosa, da quando la Juventus è tornata a vincere, non si fa mai Non si fa mai Che ne vogliate o meno Questa, secondo me, è una schifosissima vergogna Non si fa mai Fine E questo significa non rispettare il regolamento per una questione appunto di soldi E di altro Non lo so Fatalità Quest'anno non c'è Juventus-Lazio E quindi non si fa a Roma Quando c'erano le partite contro la Lazio si facevano tutte a Roma C'è anche lì Che non è più un campo neutro Roma Quando si gioca contro la Lazio o contro la Roma Diventa praticamente giocare in casa loro Capite che non ha senso Da un regolamento che dice che la Juventus dovrebbe giocare in casa Praticamente la Juventus quando giocava contro la Lazio giocava fuori casa La Supercoppa Vabbè L'unico modo per levarci qualche trofeo era quello Vabbè comunque a parte questo Ma le Supercoppe sapete che io non le considero perché alla fine la squadra che parte sfavorita la gioca al 100% La squadra che ha vinto praticamente tutto in Italia La squadra favorita la squadra che punta a trofei durante l'anno Soprattutto se me la metti a gennaio la Supercoppa La Money Cup Diventa Diventa una partita inutile Sì inutile alla fine perché comunque la Juventus La squadra che punterà ad altri trofei Cercherà prima di tutto di non farsi male Soprattutto in mezzo alla stagione Quindi per me rimane inutile E' ancora più inutile farla disputare in Arabia Saudita a gennaio Proprio è una competizione già che era inutile prima Ok adesso è ancora di più inutile Vabbè Comunque questo è il mio pensiero ragazzi Io veramente non so Ci sono altri modi secondo me Ripeto le tournee che fanno Juventus, Inter, Milan, Roma Roma e basta Sono già di per sé Quelle promuovono il prodotto italiano all'estero Poi com'è che puoi promuovere il prodotto italiano? Facendo bene in Champions League Ok Comunque se fai bene spesso in Champions League Due volte arrivi in finale Una volta rischi di eliminare il Bayern Monaco L'altra volta il Real Madrid Perché alla fine sono state comunque tutte partite bellissime Per quanto riguarda soprattutto Ovviamente il ritorno Contro Bayern Monaco e il Real Madrid Insomma Di fatto che poi dicono La Juventus Che ripeto Allegri secondo me doveva cambiare dopo Cardiff Però Considerando quello che dicono sempre del gioco brutto di Allegri Del gioco brutto della Juventus Per me le partite più belle di questi ultimi anni Fatte E viste Anche da neutrale Chi le ha viste neutralmente Insomma Sono proprio state Bayer Monaco e Juventus Juventus e Real Madrid e Juventus Perché Come emozioni Secondo me Ha veramente Prodotto tanto Hanno prodotto tanto queste partite Quindi Anche appunto Andando in Champions League Andando avanti in Champions League Promuovi il prodotto italiano all'estero E' quello che bisogna Poi ovviamente Ripeto La Champions League Per noi Come per tutte le altre scuole italiane E' utopia In questo momento Penso sia Onesto dirlo Però Tornando alla Money Cup Voi Sapete il mio pensiero Perché ogni Anno Praticamente Mi trovo a fare questo tipo di video E E niente Soprattutto La vergogna Secondo me Si è una vergogna Perché l'Inter ha giocato Appunto Quattro volte su cinque La Supercoppa Italiana Al Meazza La Juventus Mai allo Stadium E questa secondo me E' una grandissima vergogna Anzi Ha giocato Due volte Due tre volte Fuori casa Praticamente Perché ha giocato contro la Lazio Vabbè Io In casa degli altri Praticamente Va bene così Ditemi la vostra Cosa ne pensate E ci vediamo nel prossimo video Sempre fino alla fine Forza Juventus Ultima cosa Perché Molti dicono Perché Ad esempio Gli altri paesi Non fanno la Supercoppa A parte la Francia Una volta Che l'ha fatta in Canada Però di solito Non fanno la Supercoppa All'estero La fanno in casa propria Nel proprio paese E molti dicono Sì però Comunque in Inghilterra Praticamente Mettono gli orari Proprio anche per Le televisioni arabe Cosiddetto spezzatino Ma molti si sono lamentati Questo spezzatino No Anch'io Dico Era bello il campionato Quando si giocava sempre Tutti alle 15 Però Però Andiamo ad analizzare I dettagli E guardiamo che Le partite vengono viste tutte Perché Se il venerdì sera c'è partita Se domenica c'è una partita Se sabato pomeriggio c'è una partita Se sabato sera c'è una partita Se domenica c'è una partita Ci sono 300 partite la domenica E lunedì sera c'è il posticipo Poi Martedì, mercoledì Champions League Giovedì Europa League Ragazzi Non hai nessun giorno alla fine Senza calcio E vengono viste tutte Quindi Non penso Sia solo Pro Arabia Saudita Pro Cina Pro Stati Uniti Ma anche pro Italiano Perché noi ci lamentiamo Noi ci lamentiamo Però alla fine Le guardiamo tutte Così Quindi Secondo me In questo periodo Storico Calcistico Come dico sempre Lo spezzatino È giusto Perché conviene un po' a tutti Bene Detto questo Spero che lo facciano Così Come lo fanno in Inghilterra E già in Spagna Lo fanno alla fine Spero che lo facciano Anche qui In Italia Buona giornata a tutti E fino alla fine Forza Juventus